Illuminazione, arredo ufficio e contract. Questo è il titolo del primo workshop del 2014 per infoprogetto, svoltosi giovedì 27 febbraio nella prestigiosa cornice dell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a Milano. Abbiamo circa una trentina di appuntamenti, abbiamo deciso di partecipare a questo incontro perché riteniamo che l'ambiente del professionista, dell'architetto sia il canale giusto per raggiungere determinati obiettivi aziendali che ci siamo prefissati. Vorremmo sapere quali sono i servizi, che cosa offrite in più al progettista rispetto magari ai competitors? Sicuramente un'esperienza data da 65 anni di attività e una produzione veramente potente, nel senso che lavoriamo sia la parte metallo sia la parte del legno, la cattura e verniciatura, soprattutto al nostro interno, per cui diamo un servizio a 360 gradi per quello che riguarda l'arredo. Il nostro prodotto di punta sicuramente è Revolution perché comunque è una gamma di prodotti che ci permette di entrare nella fascia medio-alta del mercato, sempre nell'ambiente negozio o comunque attività commerciale, sia food che non food, ma il nostro punto di forza è sicuramente la produzione e, ripeto, è una grande esperienza. Grazie a tutti.